Ok, graficamente, ragazzi, a me il primo piacere è piaciuto, mi ha fatto cagare in mano, ovviamente. Il secondo... ma... e... Non capisco se questo sia un... remake. Eeeh, ma è bellissimo, già! Stai ancora bestemmiando con il gupla? Oh, Asogiro. Perché t'ho visto, t'ho visto, ho provato, t'ho visto, ho provato, Vincent. Molto provato. Non mi dire che è sempre quel gupla lì, perché guarda. Onico. Benvenuti comunque, bimbi. È ovvio, è quando mai, come si parla di bestemmi. Benvenuti, bimbi. Ci stiamo per addentrare nel... Nell'orrido mondo degli horror e specificamente Layers of Fear con questa demo, che da quello che ho capito dura... Salve a tutti! ...30 minuti. Ciao Vincent, ciao Igor, ma salve. Spero di finire a massimo entro fine mese. Vabbè, ma io poi... Guarda che stream Elements non fa partire il suo, ovviamente, che sta giocando a... Ma perché ancora? Ho messo al posto. Oh, maestro! Ciao, santesuke. Una commedia, senti a quell'altro. Eeeh, la demo è appena. Fatti un filino di là? Eeeh... Grazie. Possiamo anche... Dezoomare un po'. No, non possiamo. Eeeh, la demo è a tempo. Eeeh... Comunque chiedigli le spese, diciamo, andagli il conto dell'analista. Eeeh... Visto che la demo è a tempo, appena vi concentrati sul gioco, io penso la ciao. E la vedo molto difficile, io mi riesco a concentrare il mio pedamento. Lui mi ha detto, ma ci dovrebbe. La demo, ovviamente, è gratuita, potete scaricarla su Steam, da Steam. Il gioco dovrebbe uscire. Allora vogliate fare un po' più di noi, perché stasera faremo, su mezz'ora di gioco, 5 minuti effettivi. Allora, tu ne fai. Dovevi farlo mentre eravamo in game, si sarebbe spaventato. No, mi sono cagato uguale. Lei si è cagato uguale, però. E fai bene, sbando, fai bene. Allora, abbiamo questa demo. Andiamo a vedere cosa succede. Fai un po' più chiaro. Ma ovviamente non sapevo, perché voi lo vedete chiarissimo, ragazzi, ma noi non vediamo un cazzo. No, noi lo vediamo a un filo più scuro, perché ho il monitor, quello per editare foto e roba. Quindi, quello è un po' più scuro. Non ho messo sotto i più grandi, ma questi stiamo esagerando. Ciao, Frank. Ciao, Frank. Ciao, Lorid. Uè, ciao, Lorid, l'ho visto. Come state, ragazzoli belli? Come state? Andate, ritorno al lavoro. Tu avessi fatto tutto, fuori. Per schiena e paura. Comunque devo abbassare un po' su tutti. Tu vedete una cosa? Vabbè. Non parlerò. Non sono ancora sicura di quale gioco stai spaventando. Ecco, stasera proviamo anche Storytel. Tra l'altro, dopo la demo, proviamo questo giochino bellissimo, che Frank già conosce, e dovrete darci una mano voi, dalla chat. Ragazzi, abbiamo una mano nuova, perché già ho capito che finiamo a cazzotti. Cioè, salverete voi praticamente la nostra società, perché... Sto prendendo la cena, perché ho prima di poco da lavorare. Ma... Non... Non dobbiamo lavorare fino alle 12, scusa, non dobbiamo dire. Eh, infatti. Ho capito male io. Un quadro, una finestra, insomma, un momentamento indietro, una finestra. Un momento, una finestra. Un jumpster. Un samuco di jumpster. Sto prendendo ciò che è mio. Potevi anche stare a casa tua? Dieci anni prima. Bene, Frank, bene. Ah, ok. Una mano o una mano? No, no, una mano. Deve essere comunitario. No, 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 è un giochino veramente carino, poi vedrete come dovrete darci una mano. Allora, già la sensibilità mi sta facendo diventare matta. Lo so che a tempo, ma non mi potete... Il mio potere, eh? Ok. Perché a me quando le cose vanno troppo... C'ho le mani enormi, quindi... Dovremmo cooperare nel prossimo giorno. Chiamo a Storyteller, dovremmo fare delle... Dovemmo creare noi delle storie. No, the age mid-20. Vabbè. Va bene anche quella, Igor. Va benissimo, anzi. Sono tre quelle, non è una mano. Non so, ma io con una pistola, un bastone pistola? Pistol bastone? Vabbè, no, cosa ti puro un cazzo. Corriamo? No, in realtà no. Deambuliamo particolarmente lentamente. Ma chi è che si viene in mente di venire... Parca d'ora. Bello! Di venire in un posto del... No, vabbè. Sì, un attimo! Sì, un attimo! Risponda, risponda! Sì, un attimo! Traduzione anche? Ah, ok! Vabbè, spoglianota. Ah! le propiste da tutta settimana con la mia noce non devi buttare qua è chiusa risponda risponda una merda una merda uno schifo non c'è un cazzo e internet non c'è niente va bene quella non c'è niente accesso c'è non andare a cacare a voi piace questo gioco non mi sembra un altro gioco proprio non è come il primo il senso vi è piaciuta la saga di secondo puoi saltare non puoi fare niente devo andare qui dentro mettere quel mio per me per me no cosa 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 no ah devo mettere a lavorare non c'è niente mi hanno mandato qua per scrivere un romanzo ma l'hanno messo qua giù andiamo a controllare ah certo hai giocato i primi due ok io ragazzi come vi ho detto prima non ho mai non ho mai giocato perché girarsi meglio il primo nel secondo ma mi è campato con il terzo questo è il quarto no questo è il terzo è il terzo siamo come qui pronto? eh questa porta era chiusa ma ora è aperta ma per caso da su un quadro io non interagirei ora invece ciao dash ciao ma noi siamo una signora no dai mannaggia cristo adesso è chiusa ma non è vero ma comunque c'era una stanza adesso ma io lascerai aperto comunque è una questione mia quindi io ho un pittore interagire con un cazzo e abbiamo appena iniziato ragazzi dash abbiamo appena iniziato è praticamente una demo a tempo come stavamo dicendo prima ma è stata una buona idea uscire di spalle vediamo come sarà io continuerei a scrivere coccane come sto lasagna di paura adesso questa è la demo ed è a tempo hello hi darling i'm calling to let you know i'm here perché dobbiamo essere mandati in un faro fanculo da tutti cioè ispirazione spettorale infestato posso scrivere avete paura pure di una mia cameretta al buio all of these things i was just looking around and it's certainly something how are you do the match work tu dosh le giocate grandi le giocate le giocate le giocate le giocate le giocate le giocate sono piccolissime mamma le giocate mamma mamma è nostro figlio non è mio marito maybe you're right I should probably get to it then bye son love you love you too mamma ci mettiamo a lavorare decisamente non abbiamo visto niente chiudere la porta tutto a posto non è successo nulla tutto a posto scriviamo almeno capitolo 1 Henry si è cacato sotto vabbè chiamiamo benissimo con i finicotteri che si stanno sciogliendo odio anche adesso perso te lo meriti finiscilo sono spazi no era tutto il resto era cancellato della lettera se hai visto il pollo vede un cazzo lo so d'assetto vabbè chiuso 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 mamma chiuso ma non siamo la signora di prima o siamo nel libro siamo nel suo racconto che ha decisamente siamo nel suo racconto chiuso ma non mi ricordo ciao Diego ma aspetta adesso come stai aspetta forse adesso assomiglio al primo ragazza che stai occupando un attimo, ragazzo ho appena faccio i figli io si, ho già prestazione di morfina nome del paziente, data? niente dottor William H. Green va bene cattroia tua mamma, va bene, ci vado che qua, mamma mia dolorante o un dente? ah ciccio, infatti ho letto il tuo messaggio, poi mi sono dimenticata di rispondere ovviamente, ma che cazzo hai combinato? ruotalo cristo di un dio! non lo ruota evidentemente abbiamo trovato un pezzo bisogna trovare altri 4 non lo so, non l'ho vista normalmente sicurano cose così prima il corridoio, non c'era un corridoio no, sicuramente no oh signor beledietto, dai su, forza perchè? si, anche io vorrei un giardino nuovo e quindi? non lo so, sta prendendo proprio il cavolo meno male che funziona meno male Diego una signora che suona al piano spero pazzi lo spero anche io per te è preso, no? un antifiammatorio ah, beh, portate che funziona che cazzo sta succedendo in questa casa di merda eh, ricordati la rapida non vi nasce eh, questo è il piano, eh non escusi ma finiscilo che cosa? che devo fare? ho fuoco fai quanto vuoi fare inquietudine sti cosi? cosa ho preso? una candera una candera per accendere il fuoco non vai vicino al quadro ok la E non morire adesso Metti la candela Perfetto Guarda Oh la torcia finalmente Mi proteggerò Con la luce Cos'è? Ma che è? Ok non è una cosa buona No per niente Oh signoriddio madonna mia Se accendi la candela ti appare mandela Cosa sta cosa? Io non credo che No ma io non toccherei Hai preso una chiave Chiudiamo per favore Non chiedere che chiudere sta cosa Va bene Lascia dopo Ciao ciccino Dall'ultima Ci dirado Che giù da ieri Lo scabello si è rotto sotto il mio peso La mia tazza si è appicciccata al tavolo della cucina Prima bisogno di noi domestici Quegli abbiamo su di scarsa fatica Sembra che a me nessuna che ha più voglia di lavorare Chi c'entra il domestico Lo scabello che ti è cascato tutto Ma che fa manutenzione Guarda si è aperto qualcosa Abbiamo trovato una chiave quindi dovremmo cercare una porta da aprire E' questa allora? No me la fa aprire Ma invece si Non è Vabbè ma una forma che non mi piace Ma mo che è sta cosa che si difendiamo? Ma puoi usarla uguale alla torcia per vedere Ci difendiamo questa cosa Ma siamo i miei dimissioni da questa casa O di stessa Non credo di dover spiegare le motivazioni Devo so come è la vita di questa casa Mi posso permettermi di dare un consiglio Prova essere più comprensivo Ampere più gentile Le confrattite futuri domestici Buoh Prima la porta a me Buoh è una sega Questa una pena vi E' come ti sbagli a lei dai madonna dai su madonna minchia non lo so sto tirando a cazzo è cambiata un po' la stanza mamma mia non posso uscire quale spacciatore Diego è andato quello del piano di sotto col cane che bella sempre ah quello lì che fastidio davvero se me l'hanno cacciato che era in appartamento che era in affitto oppure me l'ha andato di suo sponte l'unica cosa che ha fatto che deve essere senza disco però abbiamo preso muro e li metterà sopra ciao cat come va ciccio ciao ragazzi siamo imbarcati a sta cosa come sta la gentile donzella si è ripresa un po' ammichia adesso si è tutto veicino ha tornato più o meno tutto la musica ci salverà non credo non credo proprio voglio dormire voglio andarmene perché siamo venuti in questo faro di merda ma chi è che sanno di mente che nel 1955 ah sei tu ok sei un po' cotta ma va meglio noi bene bene siamo cotti da ieri a dire la verità che siamo stati a Modena e poi vabbè io ho lavorato oggi quindi non mi sono riposato per un cazzo io sono veramente cotto lei è uguale però adesso ci rilassiamo un po' con questa demo e poi avremo un gioco avremo un gioco veramente carino con il quale dovremo interagire molto con la chat anzi Diego ricordati che ci servirà tutta la tua saggezza per continuare quel gioco ho mixato la piazza con qualche piazza bianca è fatto per un bellissimo undercuto ok ah era abusivo io ho capito che era in affitto tipo invece no bene benissimo direi oh un violino si eravamo con i nubi abbiamo fatto una sessione una one shot con lui death in a space death in space un paio d'ore praticamente andata da dio ci siamo divertiti un botto possiamo far riportire affitto ma senza contratto né nulla complimenti ah c'è un quadro quello è il quadro immagino ah sempre mia moglie che suona il piano che non è tua moglie è l'ottico io ho liberato siamo tornati siamo tornati a stare siamo degli eroi di guerra veramente prima secondo me i fenicotteri sciolti è cambiato qualcosa direi io ti odio anche adesso perso solo senza speranza vedi che nella lettera sono parole quello che era uguale lo sarai sempre sperando un grave errore finisci finisce ovviamente però non è molto oh qui è aperto ok ok quello che abbiamo trovato prima ma non si è così facilmente in che senso in che senso prendi quello sotto 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 no ma l'ha detto prima cosa abbiamo trovato prima ok avevo capito l'ottico allora cos'è scritto lì ah no quello che ha detto ma scusa un attimo se provi a aprire gli altri di cassetti di credenza non mi fa aprire sono i vari capitoli dici si no hai l'ottico lioni è una sega taglia ossa proprio quella quella che usavano i medici anni orsono per per amputare gli arti è proprio quello comunque la fiera ieri è stata bella l'unico problema che io mi aspettavo un po' più di roba cosa ti va perché gli altri anni c'è stato il capitattico c'era più roba hanno tolto qualcosa non so ma vabbè ma chi te se in cula oh no soccacchiamo non starei qua prima poco po' c'è pure di vista ragazzi ma noi stiamo ammellati ragazzi dai muoviti arnolfo mi devo tornare là a mettere sta cosa oh signoriddio ma ma tu puoi salvare e loro si trovano dietro ma si riforma si riforma si riforma addio cazzo è vero ogni tanto lavora anche lei che cazzo è vai che non l'hai messa giù dirati che non si apetta cazzo di madonna polpra dai 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 cazzo nooo no va bene ho fatto che non mi sposa ma non va bene va bene no va bene lorita dopo grazie mille a dopo lorita io lo sento di nuovo sta cambiando ogni ore in spazio porco carne mi hai fatto che gara addosso che vedi io ma questa porta oddio eccola no ah qua è davvero quella prima dai non è vero così no qua torno di dietro no provo ad andare provo ad andare di qua provo ad andare di qua dov'è la sento ma non la vedo dobbiamo trovare l'ultimo ingranaggio quindi aggozza gli occhi eh aggozza gli occhi il mio pesante se la torno di faccia hai la torcia spero non trovarlo per la torta di faccia non entrare a cazzatura nelle porte ma che ansia adesso c'avevo quasi me l'avevano detto ragazzi ma non so come tornare indietro adesso signor che caccia che caccia che caccia che caccia boom mi faccia dov'è torcia mi bevisti con il login ciao 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 eh sì caccia abbiamo l'ingranaggio perlomeno dove siamo dove siamo non lo so che urlo da fighetta bravo frankie va bene va bene pog comunque tu stai meglio spero che stia passando un po' tutto che ti sia ripresa un po' a me piacciono i quali a me piacciono i quali ma qui siamo esagerati ma arrivo c'è la ricordo che hai la forza provo a usarla eccoci da me che morire e cosa hai fatto non lo so aprimi staccia ah ok tutto ciò perfetto è perfetto boh finito speriamo che ti sia piaciuta vediamo di riconoscere la tua opinione mi hai fatto caccare in mano tipo 15 anni al primo ciclo non lo so